Ciao a tutti, mi presento, sono Chiara, ho 28 anni, vengo dalla provincia di Torino. Questa è la mia prima apparizione su YouTube. Ho aperto questo canale per potervi parlare di alcune esperienze della mia vita, principalmente di quella che sto vivendo adesso, che è la gravidanza. Infatti questo è il motivo principale per la quale ho voluto aprire questo canale. Sono entrata oggi nella trentesima settimana, quindi sono nel terzo trimestre. Ho il fiato corto, scusatemi, ma da quando sono incinta, soprattutto nell'ultimo periodo, ogni discorso, ogni venti parole devo fare, se non riesco a finire di parlare. Questo canale non parlerà solo di gravidanza, parlerà anche di casa, di cucina, delle mie passioni, insomma, di tutto un po', di come ho organizzato la casa, di come voglio organizzare la cameretta del mio bimbo, insomma, tutte cose che scopriremo man mano che il canale andrà avanti. Spero di tenervi tanta compagnia, spero di non annoiarvi. Basta, tutto qui. Se vi fa piacere seguitemi, iscrivetevi al canale. Se volete lasciarmi dei commentini qui sotto, con dei suggerimenti su che cosa parlare, o su cosa vi farebbe piacere sapere per prima, io sono pronta a tutto. E niente, un bacione al prossimo video, che spero arriverà, anzi non spero, arriverà sicuramente molto molto presto. Un bacio, ciao!